Contro le criticità ambientali del territorio urbano ed extraurbano gelese nasce un coordinamento intercomunale e quanto concordato in sinergia tra gli assessorati all'ambiente e ai lavori pubblici del comune di Gela retti rispettivamente da Simone Siciliano e Flavio Di Francesco. Gli interventi di pulizia e decoro urbano saranno realizzati assieme dalla partecipata Geras Multiservizi e dalla Tecra, l'azienda che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In questo modo, dice Siciliano, offriremo ai cittadini dei servizi onnicomprensivi in passato circoscritti da limitazioni di competenza. Nel progetto sono stati coinvolti la Polizia Municipale e il settore patrimonio del comune di Gela, quest'ultimo chiamato a tracciare e a rendere pubblica una mappatura delle zone di competenza comunale in modo da individuare le incombenze che spettano i privati sempre in materia di ecologia urbana. Questo permetterà interventi più efficaci e più efficienti con un risparmio per le casse comunali. Abbiamo già avviato un organico programma di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e per la pulizia del centro abitato, ha annunciato l'assessore Di Francesco. Le operazioni seguiranno una scaletta di priorità già individuate per tutti i quartieri di Gela a totale copertura del territorio per ridare dignità e vivibilità alla città. Grande attenzione è rivolta anche ai confini territoriali di Gela. Un servizio specifico si occuperà della repressione e dell'abbandono di rifiuti causa della presenza di discariche abusive formate in maniera esponenziale a causa dell'estensione del territorio a ridosso con i comuni viciniori causando l'incremento del costo del servizio per un fenomeno illegale senza freni e di cui il contribuente giolese non può addossarsi anche questioneri. A tutela delle zone extraurbane opereranno inoltre le guardie ecologiche di prossima istituzione.